Buongiorno a tutti, il futuro comincia tra le nostre radici, questo è quello che abbiamo pensato, è l'hashtag che abbiamo creato e per dirvi quanto questo è importante vogliamo raccontare una storia che riguarda un paese, il comune di Sgurgola forse non tutti lo conoscono, non è uno dei comuni più famosi d'Italia, né certamente nella lista dei più belli però per alcuni è il paese più bello del mondo e noi abbiamo fatto questo libro, perché siamo una casa editrice, perché è stata la vostra prima vendita all'estero a un certo punto ci è arrivata una richiesta a New Jersey di una signora che voleva comprare la guida di Sgurgola e allora ci siamo guardati, abbiamo pensato che era come il primo cent di Paperone e Paperoni e dovevamo in qualche modo mangiarla per portare fortuna e allora abbiamo realizzato questo volume e gliel'abbiamo spedito che significa questo? Che all'estero ci sono 80 milioni di italiani sono 80 milioni di persone che hanno lasciato il loro paese ma per loro il paese più bello del mondo è ancora quello da cui sono partiti noi dobbiamo mantenere i legami con loro, dobbiamo raccontare i nostri paesi dobbiamo raccontarlo in inglese, dobbiamo mantenere vive questi nostri contatti perché sono loro che possono acquistare i nostri prodotti, che possono venire a vedere i nostri paesi quando tutto questo sarà finito è da loro, da un'Italia allargata che possiamo ripartire allora ricordiamo che eravamo il paese più bello del mondo siamo ancora il paese del mondo e lo saremo anche alla fine del coronavirus ma dobbiamo raccontarlo a tutti noi vi aiutiamo, vi scriviamo le vostre storie, le traduciamo in inglese, le cariciamo sul sito ma voi dovete condividerle, condividetele sui social dei vostri comuni grazie e alla prossima